Si parla di quello che arriva nel Paraguay dal Brasile, ma non di quello che il Brasile porta nel Paraguay. Qualunque tipo di crimine. I raffinatori di banche in Brasile sono al vertice della criminalità. Parliamo di vari gruppi che si sono uniti per formare quella che probabilmente è la più grande gang di raffinatori di banche del mondo. Tu che cosa sai di senza anima? Nessuno sa molto di lui. Ha spuntato all'improvviso e ha guidato tutta l'evasione. I ladri non hanno paura di lasciare tracce, perché in Brasile il DNA non viene usato per questi crimini. Mani sopra la testa! DNA non ha mai risolto un caso. E tu non sei mai andato subito d'accordo con un partner? Fermo, fermo, fermo! Vandai, vandai! Torna indietro! A terra! A terra! Faccia a terra! Forza! Cercava il DNA, vero, capo? E' finita l'ora del bagnetto. Polizia federale! Gendete subito le ormi! Vai, vai, vai! A terra! Adesso dobbiamo fare quello che è giusto fare. Per prendere l'uomo che dobbiamo prendere. Guardalo! 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 Guardalo